Chi c'è da abbastanza tempo intuirà già che cosa vuol dire questo sfondo un po' diverso dal solito Gli altri lo provano a intuire se faccio così Stiamo andando a fare il primo decluttering del 2024 E inventario Ciao, io sono Laura, se vedete l'inquadratura un po' ballerina è perché sto tenendo il cellulare con la mano Perché tra poco lo metterò qui Sì, perché andiamo a fare il primo decluttering del 2024 dei miei prodotti Dei miei prodotti make up appunto E nel frattempo colgo l'occasione per fare anche l'aggiornamento del mio file di inventario Quest'anno sono stata meno diligente con l'inventario Nel senso che soprattutto per la parte di skin care in realtà L'ho aggiornato molto meno diligentemente con i nuovi arrivi e i finiti Però andrò pian piano a recuperare tutto questo E oggi facciamo la prima parte Come sempre dividerò il decluttering in tre parti Quindi prodotti viso, prodotti occhi e prodotti labbra Anche se sono già sicura che sulla parte di viso soprattutto Non ci sarà un grande... non andrà via tanta roba Però come vi dicevo siccome voglio fare insieme Inventario e decluttering un po' come ho fatto l'anno scorso Comunque mi aiuta a andare in profondità su tutta la mia collezione Vedere un po' quello che c'è Come è cambiata Perché è cambiata Mi sono resa conto già a colpo d'occhio E adesso appunto andiamo in profondità E vediamo che cosa è successo Quindi adesso vi metterò la ripresa da YouTube 1.0 Con solo le mani Vi chiedo già scusa per le mani Perché ho fatto una manicure Ma non è che sia molto brava a farla Però va bene Volevo essere presentabile Non lo so se ero più presentabile senza smalto o con Ma non fa niente Quindi adesso cambiamo l'inquadratura E andiamo a vedere subito le varie categorie Partiamo dal viso Allora eccoci qui Spero di riuscire a non far ballare troppo l'inquadratura Ma sono sempre come al solito in una Un po' precaria con le mie cose Partiamo subito perché altrimenti ci mettiamo una vita Da gli spray fissanti che ho quest'anno Che sono solo questi tre Questo come se avete visto il video introduttivo del 24 in meno Saprete che è in smaltimento E devo dire che sta già a buon punto Questi due sono gli unici altri due spray fissanti Che ho in collezione Anche questi rimarranno entrambi Gli spray fissanti che avevo l'anno scorso Erano due Quest'anno sono diventati quindi tre Poi Passiamo ai primer Sono diventati questi quattro Di nuovo se avete visto il video Saprete che questo è in smaltimento Devo dire che praticamente è quasi finito Ma ai fini dell'inventario al momento lo terremo come Come membro Ho iniziato Ho ricominciato a usare questo qui di Danessa Myricks Devo dire che mi sto trovando molto bene È più Diciamo è meno Opacizzante Non dovrebbe essere opacizzante Questo dovrebbe aiutare con l'opacità Ma è idratante Però è meno È un po' più idratante di quello che mi aspettavo Ma comunque mi sta piacendo Ho provato Avevo comprato tempo fa Questo Perfector 4 in 1 glow Che dovrebbe essere una di quelle specie di dupe L'Hollywood Flawless Filter Di Charlotte Tilbury Non so se si apprezza Diciamo Lo shine Sì forse sì E io lo uso come primer Perché per me Per la mia pelle mista Diciamo Come unico E soprattutto Mista e piena di imperfezioni Come unico prodotto per la base È un po' too much E questo rimane La strobe cream Strobe cream Nella versione mini taglia Rimane Da non lo so quanti anni Quest'anno l'adorò Assolutamente Finire Ops Ho esagerato È una crema Di fatto idratante Ma che lascia Uno shine Abbastanza intenso Diciamo E di solito Io questo tipo di prodotti Li uso mescolati Ai fondotinta Ed è in realtà L'uso che ne farò Anche quest'anno Perché per me Diventano un po' troppo Altrimenti L'anno scorso I primer viso Erano cinque Quest'anno Sono quattro Quindi Mi sembra Un buon Un buon risultato Considerando che Anche questo sta per finire E che gli altri Sono tutti Un po' particolari Diciamo Non sono Hanno tutti una funzione Un po' diversa Quindi Mi sento che la collezione Non sia esageratamente Fuori misura In questo ambito E poi andiamo A Fondotinta Fondotinta Se avete visto Il 24 in meno Saprete che Insomma Ho fatto un bel Un bel lavoro Di smaltimento E I fondotinta Che ho in collezione In questo momento Sono solo questi tre Di cui Questo è Praticamente finito Io credo che manchino Davvero pochi Forse uno o due Utilizzi al massimo Che è la BB cream Di Tlust Non fa per me Una BB cream Io Insomma Ho bisogno Di maggiore coprenza Invece Finito il mio No buy Di fondotinta Avevo Deciso Di acquistare Questi due Che erano due Che mi avevano intrigato Negli ultimi due anni Ma che essendo Il no buy Non avevo comprato E Invece adesso Sono qui Che mi aspettano In questi giorni Sto testando il clinic Even better clinical Una In fondotinta Insiero Pensavo più Diciamo Più leggero Idratante Invece devo dire Che è abbastanza Coprente E se non Trattato in maniera Corretta Anche un po' Visibile Diciamo E poi metterò in uso Anche il tanti doll Ultrawear Di Lancome Di cui ancora Non mi sono fatta Un'idea La cosa che mi rende Più felice In assoluto Di questi prodotti È che finalmente Ho dei prodotti Che sono del mio colore Perché in quest'ultimo anno Ho utilizzato solo Prodotti che erano In smaltimento E quindi Erano un po' Rimasti sul gruppone Quindi avevano Delle colorazioni Un po' bizzarre Delle cose un po' strane Finalmente Ho una cosa Che non devo mischiare con niente Per farla funzionare In maniera corretta L'anno scorso I fondotinta Erano 10 Quest'anno Sono 3 Mamma mia Mi sento veramente Molto soddisfatta Passiamo ora Ai correttori Anche dei correttori Devo dire Mi sento molto soddisfatta I più attenti Avranno degli spoiler Sui finiti Del mese Gli unici correttori Che mi sono rimasti Questi in realtà L'avevate già visti Sono questi 4 Clio Makeup Astra E Astra Questo Pure Beauty Questo Long Stay E lo Stay Walk Concealer Di Uma Beauty Però come vedete Non so se si vede Ma Questo di Clio È già bello avanti Anche questo È già bello avanti E quindi Insomma Sono a buon punto I correttori L'anno scorso Erano 14 E quest'anno Sono 4 No scusate Devo Devo Fare una correzione Perché i fondotinta In realtà Io avevo messo Tra i fondotinta Anche questo Che Scusate È davvero In pessime condizioni Ma questo è Il fondotinta Ripar Cover Di Ripar Che Diciamo Io uso Prevalentemente Come illuminante Del contorno occhi Però effettivamente È un fondotinta Quindi lo metto Come fondotinta Ma comunque Da 10 a 4 Mi sento Di essere stata brava E poi ci metto Anche come color corrector L'unico che è rimasto E che l'anno scorso Era anche l'unico che avevo Scusate le condizioni pessime Ma lo uso Tutti i giorni È sempre Il fondotinta Di Ripar Poi Ciprie Allora Le ciprie Anche sono Un prodotto Che era tanto Che non compravo Ne ho comprati Recentemente Un paio Forse Alla fine Nello scorso anno Un paio Di Unità Perché Sto tentando Di finire Disperatamente Questa qui Di Kiko Radiant Fusion Che Come vedete Fa anche un po' Di Art Pan Ma ci tengo Davvero tanto A finirla Solo che è davvero Infinita E Ho finito E sto Quasi finendo Oddio Adesso la faccio Anche cadere Vedete che è Proprio Quasi arrivata Questa Di Bell Hypoallergenic La Longwear Hydrating Con queste due Mi trovo molto bene In realtà Volevo provare Due Nella colorazione Albicocca E' rimasto L'unico Che c'è E quindi Lo teniamo Poi Ciprie Allora Le ciprie Sono Un prodotto Che era tanto Che non compravo Ne ho comprato Recentemente Un paio Forse Alla fine Dello scorso anno Un paio Di Unità Perché Sto tentando Di finire Disperatamente Questa qui Di Kiko Radiant Fusion Che Come vedete Fa anche un po' Di Art Pan Ma ci tengo Davvero tanto A finirla Solo che E' davvero Infinita E Ho finito E sto Quasi finendo Oddio Adesso la faccio Anche cadere Vedete che È proprio Quasi arrivata Questa Di Bell Hypoallergenic La Longwear Hydrating Con queste due Mi trovo molto bene In realtà Volevo provare Due Due ciprie Di cui ho sempre sentito Parlare moltissimo La Hyaluronic Hydra Powder Di Terri Questa dovrebbe essere La Sì La versione 8x Che Da quello che so È abbastanza simile A quella Originale E poi Volevo provare La Astra Pure Beauty Questa qui Un pochino tipo Banana Mineral Banana Powder Per il contorno occhi Questa l'ho usata Tanto Per finire Il Il fondotinta Face and Body Di MAC Perché la mischiavo Proprio alla formula Del Face and Body Di MAC Che è assolutamente Liquida E così Ottenevo una cosa Più cremosa Che mi piaceva Di più Le ciprie L'anno scorso Erano 5 Quest'anno Sono 4 Devo dire Che insomma A me già Che sia diminuito Un pochino Il numero Di prodotti Che ho In queste categorie Già mi sta bene Allora Illuminanti Illuminanti Sono Avevo Mi ero ripromessa L'anno scorso Di non comprarne più E credo che Manterrò Questa promessa A me stessa Anche quest'anno Ne ho finiti Alcuni Gli unici Che mi sono rimasti Sono Come fondotinta Sì Come illuminante Liquido Questo qui Di Melt Che mi piace Moltissimo E lo mischio Veramente Molto volentieri Al Ai fondotinta Mi piace davvero Tanto Quindi questo Ottimo prodotto E rimane Anche tutti questi Rimangono Tutti Perché sono Quelli in polvere Sono Il Mineralized Skin Finish Soft and Gentle Di Mac Prodotto Consigliatomi Da Lise Da Claudia Lise Legge Lise Viaggia Qui su Youtube Ed è un Illuminante Davvero Molto discreto Molto bello Poi ho Un Ray Rider Di Kaleidos Che mi piace molto Ma è un po' Più intenso E poi c'è Quello proprio Quando voglio Brillare Perché è pieno Di brillantini E anche molto Particolare Come colore Che è Malsmelter Sempre di Kaleidos Che è Bellissimo Che ovviamente Molto più Visibile Però mi sembra di avere Come dire Dei fondotini Degli illuminanti Che Come dire Si possono utilizzare Hanno usi diversi Quindi non mi sento di avere Doppioni Il mio obiettivo finale Sarebbe di averne uno Soltanto Perché gli illuminanti Ci mettono Talmente tanto A finirli Soprattutto quelli In polvere Che non ha davvero senso Averne diversi Però intanto Avere più opzioni Diciamo Di tipologie Proprio diverse Di utilizzi diversi La ritengo una cosa Diciamo Accettabile Quindi Sono diventati Quattro Gli illuminanti Erano sette Sono molto contenta Di come sta andando Perché in realtà Ero convinta Che Anzi Sono convinta Che quest'anno La mia Collezione Non sia Non sia diminuita Come Come aveva fatto L'anno scorso E Particolare In altre categorie Non in quella viso Quindi il fatto Che stia Stia diminuendo molto In questa categoria A cui mi è d'aiuto Perché così bilancerà Un pochino La crescita In altre categorie Comunque Continuando Andando avanti Passiamo Alla categoria Dei bronzer Allora Bronzer in crema In realtà Come bronzer Puro Cioè singolo Che non è Contenuto in una palette Mi è rimasto Solo questo Che è quello di Danessa Myricks Che mi piace molto Che però Ha una colorazione La colorazione È light 2 Vediamo se sta scritto Si sta scritto Qui piccolissimo È light 2 Per me va bene Più d'inverno Però appunto La terrò E tra l'altro La voglio pannare Nel progetto Smaltimento Anche questa È messa Nel progetto Smaltimento Profile Degli skin Bronzing Di Nabla Non vedo l'ora Di pannarla È una È un bronzer Molto particolare Perché ha un sottotono Rosso Un sottotono rosso Molto spiccato Ed estate È molto bella Però Però è tanto Io non ne uso Così tanti Di Così tanti Di bronzer Quindi Per me è strano Anche in questo caso Diciamo Mi sembra di avere Delle Delle opzioni Che possono Coesistere In qualche maniera Perché La Physician Formula Questa è la Light bronzer Di appunto Dei butter bronzer Butter bronzer Di Physician Formula Formula davvero Molto Famosa Molto bella È una colorazione Molto chiara Che va bene Adesso d'inverno È perfetta Adesso d'inverno Lo sto usando moltissimo Poi ho quella La Glowish Di Huda Beauty Che mi piace molto Ed è Un pelo Più scura Ma ancora Non estiva Per me Quindi vedete Questa è quella Chiara La Physician Formula Questo è Huda Beauty E poi ne ho invece Una più scura Ancora Che è questa T-Lis E che invece Va bene Quando è estate Quindi mi sembra Che siano Come dire Che appunto Che possano coesistere Tra l'altro Quella estiva È quella più Matte di tutti E quindi Va bene anche questo Questa io Diciamo Riesco a farle coesistere Anche nello stesso Makeup Perché Scurisco Proprio la parte Subito sotto lo zigomo Vicinissimo all'orecchio Con questa qui Che è un po' Scuretta per me Vi faccio vedere anche questa A questo punto Per farvi vedere Le differenze È piuttosto scuretta Per me Però messa in quel punto E poi sfumata Con questi altri Colori Mi dà un effetto Tridimensionale Molto bello Che quindi Diciamo Mi piace molto Mantenere Quindi però I bronzer Sono Uno Due Tre Quattro E cinque Anche questi Rimangono tutti L'anno scorso Erano Nove Quindi Anche qui Ben Un bel Una bella cosa Un bel risultato Passiamo un attimo Le palette viso Che è la prima categoria Che vedrà Di Questa Diciamo Di questa categoria viso Che vedrà Una crescita Perché Mi sono arrivate Un po' Per Per Me Acquisti Un po' Per decluttering Di qualcun altro Un po' Perché proprio Volevo tanto Provare le formule Alcune Diciamo Alcune novità Si tratta Di prodotti Che non sono Esclusivamente Viso Ma che io Tratto come palette viso A tutti gli effetti Vi faccio vedere Le prime cose Che sono Il blush Il duo Di Tarte Questo È l'altro Bronzer In crema Che ho E che invece Uso D'inverno Perché è una colorazione Più chiara Rispetto a quella Di Vanessa Myricks Vediamo se riesco A farvi vedere I due colori Così Faccio anche Così Servizio pubblico Servizio alla comunità Ecco qui Come vedete Uno più chiaro Uno più scuro E quindi Mi sembra Che possano Coesistere In una stessa collezione Quindi Questa è Una palette Che io sto usando Tutti i giorni Da quando l'ho ricevuta Da quando Claire Beauty Addict Me l'ha mandata Dal suo decluttering Una palette Un po' vecchiotta Che questa Sarà Credo L'ultimo anno Che terrò È questa qui Di Natasha Denona Che è in pratica Credo l'unico prodotto Di Natasha Denona Che mi è rimasto In collezione Perché sapete Che io non vado Molto d'accordo Con questo brand Però i prodotti Per il viso Mi piacciono I blush I blush Questi sono Entrambi in crema Li trovo Molto belli Gli illuminanti Diciamo Che sono più Per me Più Dei topper Intanto vi faccio vedere Scusate Ho fatto lo swatch Poi non ve l'ho fatto vedere Sono più Topper Blush Che non Veri illuminanti Perché come vedete Sono Hanno dei colori Un po' Too much Per me Questo sì Questo è un blush Ma questo dovrebbe essere Un illuminante Un illuminante Ma davvero è troppo Per me Comunque la uso Di fatto Come Palette Mix Di topper Però Diciamo Ho avuto Abbastanza un buon uso In questo In questo periodo E Ho Spostato Nella categoria Viso La palette di Indash Che era sempre stata Nelle palette Occhi Perché Perché come Polveri occhi Queste polveri Di fatto Non mi piacciono Sui miei occhi Non reggono Abbastanza Invece sono molto Sottili E molto belle E molto divertenti Anche come vi ho sempre detto E per Il viso Secondo me Vanno molto bene Invece Due Super new entry Del tutto Nuove Nella mia collezione Di Cose Che non ho Veramente Mai provato E che Faccio rientrare In questa In questa Categoria Sono Una palette Di Laura Geller Ho cominciato Molto più raramente Delle polveri Che invece Delle polveri viso Che invece Mi piacciono Molto di più Questi sono Degli ombretti Un pochino Un pochino Scarichi Per me Cioè Non Vanno bene Appunto Quando proprio Non voglio Di truccarmi Allora uso Questa Ma altrimenti Non li userei Invece Un prodottino Molto simpatico Che sto testando È la Color case Di Made by Mitchell Che è Un Contiene Una serie Di creme Di prodotti In crema Di vari colori Questa è La La colorazione Appunto Mi pare che si chiama Essentials Forse No Dietro non c'è scritto Ma sì Insomma I colori Più Neutri Che vanno bene Un po' Proprio per il viso Anche Per essere usati Per il viso Anche Oppure Come base Sto testando Queste come Basi Ombretto Oppure Da mischiare Ad altri Colori Ad altri Prodotti Per creare Delle shade Magari più adatte Alla colorazione Questa è diventata Una cosa Abbastanza carina Un prodotto Abbastanza carino Che mi fa piacere Testare E di cui Sentirete Sicuramente Parlare Quindi Le palette viso Sono diventate Una, due, tre Quattro e cinque Invece L'anno scorso Erano tre No scusate due Quindi ancora meno Di quelle che pensavo Effettivamente Devo dire Che Diciamo È forse È una categoria Che non aveva bisogno Di crescere Perché le uso In particolare Alcune di queste Ne uso poco Però vediamo un po' Come andrà Quest'anno L'utilizzo Prodotti Per le sopracciglia Scusate Scusate Mi sono appena Resa conto Che in realtà C'è un altro Primer Quindi i primer Non sono Quattro Ma sono cinque Quindi sono rimasti Nello stesso numero Anche se sono cambiati Questo è un Prodotto Opacizzante Che effettivamente Mancava Tra quelli che Avevo citato Comunque Passando alle sopracciglia I prodotti Che mi sono rimasti In collezione Sono questi quattro Non vedo l'ora Di finire La brow glue Ma insomma Ci siamo quasi Di NYX Perché non la amo Ma ho già Un rimpiazzo Che è Il Mascara Di Rose Inc Quindi questo Non vedo l'ora Di testarlo bene Perché ne ho sentito Parlare bene Soprattutto perché Ha le ciglia Come le mie Che sono solo Da In qualche modo Da un po' Rinfoltire Un po' Colorare Colorare sotto Ma sono già Abbastanza Colte di loro E poi ho due Matite La Matita di Dior Che sapete Mi piace moltissimo E anche L'Infallible Browse Di L'Oreal Che pure Mi piace abbastanza Questa ovviamente È una di quelle Con la mina Super minuta Per fare i dettagli Questa invece È una matita Che serve Per fare più Il Scusate Nel frattempo Era finito lo spazio Sul cellulare Quindi ho dovuto Svuotarlo E poi riprendere Mi stavo dicendo Che questa La uso per Per i dettagli Questa invece La uso per Riempire E mi piacciono Entrambe molto I prodotti Per le sopracciglia L'anno scorso Erano tre Quest'anno Sono quattro Quindi anche in questo caso È un po' Ho aumentato Il numero Di Di prodotti Un prodotto Che invece È rimasto Solo lui L'unico Che mi rimane Nella categoria È il mixer Per i fondotinta Profondation mixer Di NYX Questo è un prodotto Bianco Che serve appunto A schiarire I colori I fondotinta O i correttori Che sono troppo scuri Per il vostro incarnato Era uno L'anno scorso Continua ad essere uno Anche quest'anno Ma passiamo Alla categoria Più succulenta Che è quella Sicuramente più succulenta Almeno per me Che è quella Dei Dei brush In cui forse Credo che vedremo Qualche cosa Andare via A sorpresa Diciamo Anche per me Perché adesso Guardandoli Mi dico che Forse qualcosa Deve andare via Allora Partiamo Dai prodotti In polvere Che sono Solo questi Quattro Questi in realtà Uno già L'ho regalato Erano cinque All'inizio dell'anno Ma adesso Sono diventati quattro Perché ho regalato Un blush Il blush Di Pat McGrath Qualcuno di voi Forse se lo ricorderà A mia madre Che cercava un blush Di nuovo Fanno la loro Apparizione Le polvere Di Laura Geller Questo è stupendo È a metà Tra un Si chiama Tawny Bronze Metà Tra un bronzer È un blush Ma io uso Come blush E mi piace Moltissimo Glowish Il blush È meno bello Del bronzer Questo Lo Sarebbe Sarei tentata Di darlo via Però lo tengo Per ora Perché appunto Non ne ho moltissimi Di blush in polvere Quindi Non mi dispiace Tenerlo E ho invece Il blush Di Katundi Però avevo Voglia di vederli A fianco Perché ho paura Che Siano Sono simili Però forse Non è abbastanza Da giustificare Mandare via Uno E E invece No Questo è Completamente Diverso È uno Dei blush Di MAC Nella Versione Nella Insomma Nella Nella linea Extra Dimension Just a pinch Molto bello Questo 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 rimane Scusate Ho rimesso Un po' a posto L'inquadratura Perché altrimenti Non Non ci entravamo E Allora Tra i blush In In crema Ci sarà Almeno uno Che andrà via Ma lo lascio Per ultimo Parliamo prima Delle ultime cose Che sono entrate In collezione Che sono questi due Che sono frutto Sempre del Decluttering Di Claire Di Clara E sono Il blush Tower 28 Molto bello E stando grandi Soddisfazioni Nella colorazione Power Hour E il blush Di Melt Questo invece Luminoso Nella colorazione Polished Che sono arrivati Insieme Li ho usati Per la prima volta Insieme E continuo A usarli Insieme Poi Rimangono Sicuramente Cheek Slime Di Freck E il blush Di Apicia Perché sono Nel progetto Smaltimento Quindi questi Non vanno Da nessuna parte Non vanno Da nessuna parte Neanche questo Che è il duo Di Dierdalia Di cui L'ombretto Blush In polvere È Finito E mi rimane Da finire Il blush In crema Che mi piace Moltissimo E potrei Valutare In effetti Di finirlo Se avete Di Nabla E tra l'altro Ho notato Che se è una base Incipriata Fa un pochino Più di fatica Invece Questi altri Blush Che ho Di solito Non fanno Grossa fatica E rimane ancora Per un anno Anche questo Il Super Fluid Lip and Cheek Che è una colorazione Stupenda Secondo me Red Veramente Bello E lo voglio tenere Questo mi piace Anche sulle labbra Incredibilmente Anche se secca Un pochino Però È una bella formula La voglio ancora Sfruttare Anche se il pack Si sta cominciando A rompere Per questo dico Che forse Sarà l'ultimo anno Che sarà Nella mia collezione Rimane anche Il blush In crema Di Liss Questo colore È molto bello È così scuro Non ce l'ho In collezione Molto bello Anche il blush Di Rare Beauty Anche se sono Davvero consapevole Che non riuscirò Mai a finirlo Questo è nella colorazione Love È molto bello Però ne basta Davvero poco Per utilizzarlo Per Insomma Per metterlo E quindi Veramente si fa fatica A finirlo Però è un bellissimo prodotto E lo tengo E rimangono Tre prodotti Di Tipologia Davvero differente E che tutti e tre Non mi convincono Parto subito Dal pezzo più grosso Blush Di Giorgio Armani Questo esce Dalla collezione Perché Per me Questo è una tipologia Di blush Che Che non fa Assolutamente Per me È molto Acquoso Fa un po' Di stain Un po' Di Effetto No macchia Di Effetto tinta Tinge un pochino La pelle Sotto Ma per me Non è Non è un prodotto Adatto Quindi questo Lo darò via A qualche amica Terribile Veramente Non serve a niente Questo prodotto E tra l'altro Appunto Il pack Come vedete Si sporca Molto facilmente Il On the glow Bronze Tinted Moisturizer Stick Di Pixi In questa colorazione Warm glow Non mi piace Non mi piace Per niente Non colora abbastanza Perché una volta Che voi lo sfumate In realtà È È quasi Del colore Della mia pelle Sembra Sembra che io Abbia Rimesso I rossori Della pelle Le imperfezioni Della pelle Che Tanto faticolosamente Avevo tolto Con il Fondotinta Lo tengo Solo perché È uno di quei prodotti Che quando mia figlia Mi chiede Di truccarsi con me È una cosa Che posso Darle Senza Che ci siano Particolari danni Si lava Molto via Molto bene Dal viso E quindi Ha due anni Mia figlia Quindi non si può Truccare Evidentemente Però Quando si impunta Su qualcosa Questo è un prodotto Che io Le do Facilmente Non mi piace Neanche tantissimo Questo pep balm Che era contenuto Nel calendario Dell'avvento Di Stylevana Che mi è stato Gentilmente inviato È molto bello Il colore È molto bello Come si stende Mi piace Anche abbastanza Sulle labbra Dici qual è il problema Il problema È che dura Davvero poco Sul Sul viso Il colore Come vedete È stupendo Però è un È un Blush Che davvero Non ha Non ha Una grossa longevità Quindi non mi fa Impazzire Però anche questo Lo voglio Provare a tenere Vedere cosa si può fare Magari provando a mischiarlo Con un prodotto Di questo tipo Che è un più longevo Oppure In qualche altra maniera Voglio vedere Se riesco ad utilizzarlo Perché davvero Il colore Mi piace tantissimo È simile Vedete A quello di Superfluid Però ha Di meglio Che si riesce A dosare Molto più facilmente Cioè questo è molto più Pigmentato E quindi Insomma Si vede molto di più E poi come vedete Questo è più opaco Invece questo ha Una sua luminescenza Molto bella Quindi Per ora li tengo Per cui Uno se n'è andato E Quelli che sono rimasti Sono Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Quindici Sedici Sedici Prodotti quest'anno Erano Ventiquattro L'anno scorso Quindi Mi ritengo Più che soddisfatta Come sapete I blush Sono una categoria Che mi piace Moltissimo E che E che Riesco ad utilizzare Anche a finire Mi faccio Torniamo subito Così Vi concludo Il video Così Visto che era L'ultima categoria Del viso Dicevo È una categoria Che uso Che tendo anche Sono capace Anche di finire Per me Questo però È un Come dire Un incentivo Ad utilizzarli E declatterarli Di più Può sembrare Un controsenso Però quello che dico Io È questo È che Se io Un prodotto Lo riesco A finire Averne così Tanti Ed essere Consapevoli Che qualcosa Che potrei finire Non lo finirò Per il numero Di prodotti Che ho È una cosa Che secondo me Non è particolarmente Sostenibile Ora Sui blush Io ho Cioè È il mio punto debole È il mio prodotto Preferito È una cosa Che non Voglio smettere Di comprare Non voglio smettere Di utilizzare Ne uso tanti Insieme Sul mio viso Ogni giorno Quindi Non sarà Questa Diciamo La categoria In cui io mai Andrò ad avere Un solo prodotto Però Diminuire Il numero Di prodotti È comunque Una cosa Che per me In questo In questo campo È molto sensata E quindi Sono contenta Di aver diminuito Sono contenta Anche che sono Un bel po' Sono cambiati Ho delle nuove cose Da provare Ho delle cose Che sono sicura O comunque So di potermi impegnare A finire Quindi diciamo Che la composizione Finale Non mi dispiace Però appunto Sono anche contenta Che siano diminuiti Questi erano Tutti Questi erano Tutti i prodotti Viso Quindi Make up Viso Che avevo Che ho In collezione Quest'anno Sono contenta Perché sono diminuiti Molto Non pensavo Così Tanto E ciò Mi aiuterà Perché invece In altre categorie Come per esempio Quella degli occhi Che farò subito Dopo questa Forse anche subito La registro Adesso vediamo La categoria degli occhi Io sono sicura Che è aumentato Perché ho comprato Tante palette Quest'anno Troppe Conscia Della differenza Con i blush Perché la palette È un prodotto Che voi Non finite Quando Non potete finire Cioè A me Non è mai Capitato Di finire Tutta una palette Già Tanto si riesce A pannare qualcosa Prima che Che arrivi La scadenza Però questo pensiero In qualche modo Invece A me dava Come dire La giustificazione Li dovrò buttare Se anche ne ho di più Di quelle che mi servirebbero Comunque Come dire Non mi Il fatto di averne tante Non è quello Che mi preclude La possibilità Di finirle È una cosa Un po' Controversa Un po' Arzigogolata Un po' Che vi dà idea Di come funziona Il mio cervello Quindi Forse non dovrei dirla Però Però insomma Era un po' Una giustificazione Per me Anche perché In molte categorie Io avevo L'anno scorso Uno buy Che erano I fondotinta I correttori I illuminanti I bronzer Quindi Mi sono sfogata In altre cose E le palette Sono sicuramente Una di queste cose Forse la cosa principale Su cui mi sono sfogata E quindi Diciamo Ne ho accumulate Molte di più E il fatto che Siano diminuiti I miei Prodotti Make up Per la base Fa sì Che ho un margine Un po' Più ampio Per Appunto Vedere crescere Il numero Delle mie Dei miei Dei miei prodotti In altre categorie Senza Vedere Crescere A dismisura Il numero Di prodotti Totali Che ho In collezione Che comunque Mi ero detta Di voler far diminuire Almeno del 10% Quindi ho ancora Questo obiettivo in mente Onestamente Non so assolutamente Quanto Cioè Come sarà Il risultato Finale Però vediamo Adesso Adesso vediamo Magari adesso Provo a registrare Subito Gli occhi Così Ci da subito Un po' Un'idea Di quello Che è successo Quest'anno Comunque Fatemi sapere Se questa parte Della collezione Vi è piaciuta Fatemi sapere Che cosa ne pensate Se avete provato Alcuni di questi prodotti O se avete Dei prodotti Che mi consigliate Di provare Adesso che sono finiti I miei no buy In alcune di queste categorie Non mi consigliate Illuminanti E non mi consigliate Bronzer Perché non ne comprerò Sono ancora in no buy Molto Poco faticoso Questo no buy Però vabbè Ad ogni modo Consigliatemi I prodotti Che pensate Che potrebbero fare Al mio caso Oppure che vorreste Vedere testati Da qualcuno Che li testa Realmente Quotidianamente Se io vi sto simpatica Iscrivetevi Iscrivetevi al canale Lasciatemi un like A questo video E niente Se vi faccio Ci vediamo Alla prossima Ciao Alla prossima Alla prossima